Servizi di controllo da parte della Polizia Stradale di Agrigento in questo weekend delle festività di fine anno. Pattuglie della Stradale, su disposizione del compartimento Polizia Stradale Sicilia Occidentale di Palermo e del Questore di Agrigento, hanno vigilato sulle principali reti viarie della provincia. In totale sono state 32 le contravvenzioni elevate per il mancato uso della cintura di sicurezza e 3 per l'uso del telefonino smartphone alla guida, 5 per mancata revisione del mezzo e 4 per mancata copertura assicurativa. Gli uomini della Polizia Stradale di Agrigento, coordinati dal Vicequestore aggiunto Andrea Morreale, hanno inoltre ritirato tre patenti e due carte di circolazione, decurtato ben 198 punti ed effettuato 22 soccorsi ad automobilisti in difficoltà. Sono stati controllati con l'ausilio di precursori e o etilometro 177 conducenti. Tre di questi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato di Ebrezza. Si tratta di un 55enne di Canicatì, sorpreso lungo la statale 640 nella mattinata del primo dell'anno, di un 32enne di Cattolica Eraclea, fermato la notte di San Silvestro lungo la statale 115 all'altezza di Sciacca e rifiutatosi di sottoporsi al controllo, ed infine un 26enne aggrigentino fermato nelle presse del capoluogo la stessa notte.